La nostra regione è interessata da un via vai di perturbazioni provenienti dal nord atlantico, perturbazioni che negli ultimi giorni hanno determinato abbondanti precipitazioni anche di forte intensità a causa della presenza di aria molto fredda in quota, aria fredda che ha favorito persino nevicate a quote di bassa montagna. Attualmente il fronte perturbato che ci ha interessato nella scorsa notte va allontanandosi verso l'Egeo consentendo un temporaneo miglioramento che si paleserà soprattutto nella giornata di domani, sabato 4 dicembre. Ma un'altra perturbazione è già pronta ad inserirsi in aria mediterranea, la quale causerà un nuovo diffuso peggioramento a partire dalla giornata di domenica. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo weekend. Sabato 4 dicembre, cielo poco nuvoloso ovunque con locali modesti addensamenti ma senza il rischio di precipitazioni associate, temperature senza particolari variazioni, venti tra debole e moderati settentrionali. Dalla serata tendenza del vento a disporsi da libeccio e a rinforzare vistosamente nel corso della notte. Mare poco mosso sotto costa e mosso a largo con tendenza ad aumento del moto ondoso dalla serata. Domenica 5 cielo molto nuvoloso ovunque con precipitazioni diffuse specie a ridosso dei rilievi nelle aree esposte ad ovest della dorsale appenninica. Possibilità di temporali anche di forte intensità, temperature in diminuzione, venti forti da libeccio e mare agitato o molto agitato con possibili mareggiate lungo la costa. Lunedì avremo ancora condizioni di maltempo anche forte, con piogge diffuse e di forte intensità. Fenomeni particolarmente intensi potrebbero interessare il cilento, con temporali anche grandinigeni, nevicate in montagna al di sopra dei mille metri, temperature in ulteriore diminuzione, venti moderati da ovest, nord-ovest, tendenti a disporsi da nord dal pomeriggio. Da martedì è atteso un miglioramento che potrebbe protrarsi anche nella giornata di mercoledì 8 dicembre, ma occorre comunque riaggiornarsi e dunque invito, come sempre, i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui da Giuseppe Stabile. Un buon fine settimana.